Con Carlo Santomieri, che diciamo in questa stagione non c'è stato tantissimo, però diciamo che ora sta provando a rientrare, noi ti facciamo il nostro un bocca al lupo perché comunque rappresenti giocatore importante per la Firenze del basket. Carlo, allora, settimana che ci avvicina a questa seconda fase, te l'hai vissuta guardando, come vedi la squadra, come sta l'Enic? All'Enic secondo me sta molto bene perché comunque i ragazzi stanno andando benissimo, molto 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 bene, ho visto delle partite incredibili e quello che magari i maligni potevano aspettarsi in negativo non è mai successo, comunque ragazzi sempre tosti, sempre decisi, sempre pronti, quindi tutto benissimo. Ci alleniamo tanto, bene, o meglio si allenano loro perché io quest'anno parecchio ho battuto le mani e vediamo, nel senso che comunque la seconda fase saranno tutte partite intense subito, fin dall'inizio, quindi bisogna vedere anche poi, uno deve maturare e quindi è il momento giusto per vedere se sono pronti. Partite con otto punti, sabato c'è una partita su un campo molto difficile storicamente come quello di Certallo, ti chiedo come stai e cosa sei in grado di dare secondo il tuo punto di vista a questa squadra in questa seconda fase? Allora, io purtroppo quest'anno è stata una cosa tragica e anche ora sto vivendo di settimana in settimana, quindi ora in settimana mi alleno, guardo come sto, insieme all'apo si decide cosa fare, sicuramente quello che provo a metterci non è tipo un 360 in contropiede perché non mi stacco più da terra, però se nel momento di intensità c'è da entrare da due panzate, sono pronto, nel senso le panzate le do volentieri. L'obiettivo di questa squadra secondo te può essere quello di fare questo passo in avanti, passare nelle prime due e magari andare a guardare com'è il basket degli spareggi nazionali? Io penso di sì, nel senso che noi dobbiamo puntare a quello per forza, vediamo come va, alla fine il discorso è che comunque a parte i rabaglietti, i puccioni, mi ci metto anch'io tra i vecchi perché lo sono, cioè alla fine più partite riusciamo a fare e meglio è perché per fare esperienza, per essere pronti poi per il prossimo anno è tutto fiano messo in cascina, quindi chiaramente non sarà facile arrivare nelle prime due però ci si prova anche perché poi comunque andare a fare gli spareggi può essere divertente perché l'anno che si è girato in Veneto e così, c'era delle squadre lassù che insomma ti diverti anche a giocare perché comunque sia fisicamente che a livello di basket giocato insomma sono un capellino sopra secondo me rispetto a noi, quindi va bene.